Abbiamo volutamente dato volume all'aria e questi tubicini con mano rappresentano questo concetto, cioè quando una persona attraversa questo spazio deve muoversi attraverso questi tubicini per arrivare a degli oggetti. Gli oggetti e gli articoli sono stati selezionati appositamente perché nel loro ciclo produttivo sono state fatte delle scelte consapevoli al fine di rendere l'utente finale, chi poi sceglierà questo prodotto per essere inserito all'interno della propria casa piuttosto che dell'ufficio, un prodotto sano, salubre e anche le finiture che vedete qui attorno, abbiamo delle tonalità molto belle, sono tutti prodotti che non rilasciano formaldeide, sono prodotti sani, salubri e che servono per darci benessere perché il benessere non è solo una scelta che deve essere consapevole e deve essere guidata, soprattutto noi progettisti dobbiamo riuscire ad interpretare al meglio questo concetto.